Un giorno molto importante, dopo tantissimi anni di attesa, finalmente abbiamo potenziato e migliorato il ponte di via Giordani, finalmente una strada accessibile per le macchine a doppio senso, accessibile per l'utenza pedonale, perché c'è un marciapiede che mette assolutamente in sicurezza i pedoni. Un'opera che la città aspettava da tantissimi anni, un cantiere sicuramente difficile, perché ha diviso il quartiere di Masnago e di Calcinate degli Origoni, però in questo periodo in cui tanti cantieri purtroppo si sono fermati a causa dell'emergenza sanitaria, questo cantiere è andato avanti e ha consegnato un'opera importantissima per tutta la città. Quindi ringraziamo ovviamente tutti i residenti per i disagi e la pazienza che è stata portata in questi mesi, una pazienza che credo sia stata ripagata dalla soddisfazione di questo intervento.